Allora ragazzi oggi sono in un nuovo vlog per oggi il vestito completo e ho anche una pistola non so se conosciete questa schiena di Fortnite si chiama X di San Valentino e mi piace troppo quindi ho deciso di farlo tutto. Allora, questo è un giornale lasciate stare, comunque sto proprio in un gioco forte. Sì, c'è una cosa che avete visto qui. Sì, c'è una cosa che avete visto qui. Sì, c'è una cosa che avete visto. Adesso torno a casa e facciamo un nuovo vlog. Andiamo! Ok ragazzi, sono tornato a casa. Sono tornato a casa. Questo vlog a casa l'ho fatto per così. Comunque... Un attimo che mi aggiusto la maschera. Ok, ecco. Ho aggiustato la maschera. Questa bozza di Squid Game. Allora... è morto. Comunque... Forse fare un giveaway di una maschera. Una forza. Quindi non... E poi ho pubblicato un nuovo video. Io mi pubblico questo che ho fatto adesso. E niente. Al prossimo vlog. Ciao! 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 Ciao!